Eccomi, buonasera e grazie tanto per questo invito, è sempre un piacere poter confrontarmi con la comunità di Sherwood e con gli invitati di questa sera. Francesco tu hai introdotto a mio avviso gli elementi fondamentali di questo dibattito, quindi probabilmente tornerò su alcune cose che tu hai introdotto provando a rispondere alla tua domanda. Io credo che siamo influenzati, condizionati dalla strettissima attualità e quindi non possiamo non tener conto che questa sequenza di scioperi, di lotte del 2023 è poi precipitata, in qualche modo è stata poi riaperta dalla rivolta delle banlieue. Credo però che non bisogna commettere un doppio errore di lettura e di interpretazione di questo evento. Il primo errore è quello di pensare che questo evento, che ha avuto un clamore mediatico anche all'estero in misura maggiore rispetto ad altre sequenze di lotta, non bisogna commettere l'errore che questo evento sia un evento separato dalla sequenza che Baribara definiva nell'intervista che abbiamo fatto come un'insurrezione democratica. Il secondo errore che è un po' opposto e forse anche speculare al primo è quello invece di pensare che ci sia una continuità lineare, che non ci siano faglie, non ci siano scarti, non ci siano differenze tra il movimento di sciopero e le rivolte degli ultimi giorni. Visto che da quello che ho capito il dibattito si articolerà in due parti, in questa prima parte vorrei soprattutto soffermarmi sul primo aspetto, che credo che sia quello più urgente, e cioè mettere in luce i tratti di continuità e l'iscrizione di questa rivolta delle banlieue all'interno della sequenza che si è aperta nel 2003, ma risalendo possiamo inserirla all'interno di una stessa tendenza, una tendenza che ha trovato probabilmente le sue origini nel 2016 con il movimento contro la loi travail e la cosiddetta Nui Début, quindi durante la fase finale dell'ultimo governo presieduto da Holland e che poi si è sviluppata con il movimento dei gilets jaunes, il movimento contro la riforma delle pensioni e poi la rivolta delle boglie. In realtà bisogna anche sottolineare che il 2017, cioè dopo l'insediamento di Macron, c'è anche dell'altro che accade, appunto la ZAD, perché Macron ritira il progetto dell'aeroporto di fronte alla persistenza di quella lotta e però nello stesso tempo dice che la ZAD non è autorizzata, quindi procede l'attacco e poi anche altri movimenti che si sono espressi in questo periodo e credo sia importante sottolinearlo perché ci mostrano anche degli elementi di continuità. Faccio un esempio durante il Covid, tra i vari confinement, lockdown, come si diceva in Italia, c'è stato un movimento molto importante che è durato qualche settimana con una composizione giovanile che si opponeva alla cosiddetta loi de sécurité globale, che era una legge che poi è fatta, in particolare un articolo era contestato che poi è stato fatto saltare anche a livello costituzionale che impediva di far circolare i video, i filmati della polizia. Pensate per esempio se questa legge fosse passata, il video che mostrava l'assassinio di Naël non avrebbe circolato perché sui reso la legge avrebbe autorizzato il divieto di queste immagini. E quindi questo lo dico perché l'elemento della critica, del rifiuto alla violenza della polizia è un tratto caratterizzante di queste lotte. E quindi credo che questi aspetti di continuità su cui vorrei insistere derivano da due livelli di analisi. Il primo livello di analisi è quello che anche tu Cesco accennavi, risiede nella configurazione storica e politica del macronismo. È molto importante quello che tu hai sottolineato, cioè che non c'è stato un discorso alla nazione come fece Chirac e considerando che Macron ha fatto diversi discorsi alla nazione, li ha fatti durante la cosiddetta crisi dei gilets jaunes e li ha fatti anche nel 2023. In questo caso invece non ha fatto un discorso alla nazione, né tantomeno è andato a Nanterre, né tantomeno è andato a trovare la madre di Naël, né ha inviato dei rappresentanti dello Stato al funerale per esempio. E quindi diciamo che questo è un aspetto che mi sembra importante di sottolineare, di iscrivere all'interno di quella che è la configurazione storico-politica del macronismo. In particolare io credo che ci siano tre elementi che vanno sottolineati e io parlo di questo perché credo che sia anche dal lato delle forme della governamentalità e del potere un elemento di laboratorio quello che si sta sperimentando in Francia, non per dipingere degli scenari cupi, non ce ne sarebbe bisogno, la realtà ci li mostra già nella loro crudezza, ma perché credo che siano degli elementi che ci parlano anche di come il neoliberalismo in crisi si configura poi concretamente di fronte a delle lotte che hanno una loro forza e che accumulano di forza. Il primo elemento credo che sia il macronismo si caratterizza per una separazione, per dirlo proprio in maniera molto breve, ho 15 minuti e il macronismo si caratterizza per un allineamento completo tra la logica dello Stato e quella del capitale. Questa cosa può essere ritrovata nel gesto inaugurale di Macron, di cui parlavamo anche al dibattito sempre a Sherwood nell'estate dopo la rivolta di Gilegione, cioè il fatto che Macron va al potere annunciando una rivoluzione modernizzatrice che poi si rivela invece presto essere una sorta di scenario da ancien regime. La rimozione della tassa ISF sui più ricchi è l'elemento simbolico fondativo di questo esperimento di governo e questo poi si verifica invece oggi nell'attacco ai servizi del welfare, nel tentativo di indebolire il sistema pensionistico perché poi la riforma non prevede solo di mandare due anni più tardi i lavoratori in pensione, ma prevede anche più in generale un indebolimento del sistema della sicurità sociale che alle origini era un sistema creato dal basso, cioè gestito direttamente prima dai rappresentanti dei lavoratori e poi dai lavoratori stessi che contribuivano, cotizzavano, come si dice qua, alla previdenza sociale. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è la rottura di ogni compromesso, la rottura definitiva di ogni compromesso tra l'elemento del capitale e del lavoro e questo lo vediamo per esempio nell'azione concreta che Macron ha messo in atto durante il movimento contro la riforma delle retrette, in particolare facendo passare la riforma nonostante non solo i numeri nelle piazze, non solo la conflittualità, non solo l'estensione delle pratiche di blocco, di picchetto fosse tale da spingerlo a un ripienzamento, ma anche i dati sul piano dell'opinione pubblica. Quindi i sondaggi che dicevano che l'ottanta per cento dei francesi erano per il ritiro di questa riforma. Lui la fa passare e subito dopo averla fatta passare chiede ai sindacati di incontrarli, quasi per volerli umiliare. Quindi proprio l'annullamento delle forme tradizionali di mediazione. Il terzo elemento, che è quello che poi ci parla anche della rivolta recente, è invece quella che definirei una modificazione delle forme della legittimità e della mediazione politica, al di là anche del conflitto tra capitale e lavoro. In particolare alle forme di legittimità tradizionali, Macron sostituisce un doppio dispositivo. Da un lato quello che in un editoriale della pratforma definivamo come una sorta di società dello spettacolo presidenziale. Costruisce delle scene artificiali nel quale alla mediazione materiale concreta è sostituita una sorta di spettacolo. Considerate che il giorno in cui Naelle è stato ucciso, lui era, e questo ironia della sorte potremmo dire nella tragicità dell'evento, lui era nella Bauglie Nord di Marsiglia a fare una sorta di grand debat dove vengono selezionate le persone, provava con questo dibattito a uscire dalla crisi delle retrette, mostrando che lui si stava interessando con un piano di investimenti accompagnato da un piano sicuritario alla questione delle periferie, in particolare nella Bauglie Nord di Marsiglia. Proprio in quelle ore in cui lui faceva questa specie di riedizione del grand debat, a Nanterre viene freddato con un colpo di pistola al cuore Naella. Il secondo aspetto che caratterizza questa modificazione delle forme della legittimità è precisamente il fatto che questa legittimità non si fonda più sul consenso, neanche sui sondaggi, ma si fonda da un lato sulle istituzioni della Quinta Repubblica che gli permettono di far ricorsa a degli strumenti di eccezione e dall'altro ad una logica meramente esecutiva nel quale la legittimità si fonda sull'effettività delle decisioni, cioè sulla messa in pratica delle decisioni. E in questo senso la polis in quanto istituzione, quindi non solo in quanto comportamenti di gruppi o di singoli poliziotti, diventa un elemento fondamentale di questa configurazione del macronismo. Il secondo piano invece, per andare in maniera molto rapida, invece della continuità noi possiamo individuarlo dal punto di vista delle lotte e più in generale del contesto sociale e politico caratterizzato da questa profonda crisi di regime. Balibar appunto introduceva anche questo elemento, cioè noi stiamo vivendo una crisi di regime, di una ampiezza, di una profondità assolutamente inedita per la Francia e credo in generale per una democrazia occidentale. E appunto su questo piano vorrei sottolineare che diciamo che la continuità non la si vede solo negli effetti che si subiscono, quindi dal punto di vista dei dispositivi repressivi, dall'elemento che più diversi autori, diversi diciamo ricercatori militanti hanno messo in mostra, penso per esempio agli scritti di Mathieu Rigoust, agli scritti di Michel Kokoref e di altri che hanno mostrato dal punto di vista sociologico, dal punto di vista economico, il carattere strutturale razzista dell'istituzione della polis e nello stesso tempo hanno mostrato anche che l'unica istituzione della puissance publique, del pubblico, che in questi trent'anni non è stata definanziata, ma al contrario è stata rifinanziata con un aumento tendenziale del trenta per cento dei fondi pubblici e precisamente l'istituzione poliziesca. E questo elemento è fondamentale perché ci permette probabilmente poi nella seconda fase della discussione di aprire anche un dibattito su quali sono le prospettive. Ma c'è anche un altro aspetto che vorrei sottolineare, c'è sia i comunicati che hanno circolato di alcune organizzazioni sindacali, quelle dei compagni presenti al dibattito, ma anche alcuni comunicati di alcune sezioni locali di CGT, è soprattutto la posizione della France Insoumise ed è una parte dei Verdi, quindi di una componente maggioritaria della coalizione di sinistra che si chiama Nupes. Rispetto al 2005 è stata una posizione molto più esplicita di sostegno alla richiesta di giustizia che queste rivolte hanno espresso. Laddove invece il tentativo che si è fatto e che in parte è anche funzionato dal punto di vista dell'apparato mediatico è stato quello di dire che si trattava di una rivolta separatista, etnica, dei territori persi della Repubblica su cui si è costruita per esempio la narrativa delle televisioni di Bolloré che è sostanzialmente un magnate, potremmo dire un oligarca dell'industria della comunicazione che ha come suo portavoce Eric Zemmour, cioè il fenomeno Zemmour è stato creato nelle televisioni di Bolloré ed è riemerso in questi giorni. È però l'elemento politico fondamentale che in particolare alcune componenti della Nupes hanno detto che non c'è pace senza giustizia. Capite bene che questo tipo di dichiarazione, per quanto poi si sia detto pure alcuni obiettivi sono sbagliati, per esempio prenderseli con alcuni servizi come le scuole, poi Mediapar, c'è tutto un dibattito che si sta sviluppando, adesso siamo usciti un po' dalla cappa emergenzialista e si stanno aprendo delle prospettive di riflessione. Quindi anche Mediapar che pubblica delle inchieste in cui mostra che da un lato, certo, le scuole fanno un lavoro fondamentale all'interno delle Bolloré, ma poi la militarizzazione delle scuole le fa diventare anche degli obiettivi a volte del rifiuto che si esprime in questi contesti e questo chiaramente non per giustificare il fatto che si attacchi a un servizio pubblico. Però il dibattito adesso in questi giorni si sta riaprendo, non ci sono solo le dichiarazioni, ci sono state anche delle iniziative concrete. Vorrei sottolineare il primo elemento che la sera dopo l'uccisione di Naël c'era un presidio non solo a Parigi ma anche in altre città di sull'Evemont de la Terre, quindi per introdurre anche l'elemento ecologista contro la dissoluzione ed è diventato una piazza nella quale il Comitè Adama e tutte le organizzazioni che lavorano in quelli che si chiamano i cartier populaires, perché poi dal punto di vista politico le banlieue sono i cartier populaires, cioè si autonominano come tali, hanno quindi immediatamente creato una connessione tra settori del sindacalismo di base, settori dell'ecologismo radicale e organizzazioni di cartier populaires. E in più, sto veramente finendo perché vedo che sono già 16 minuti e mi ero proposto di non sforare, vorrei solo concludere il discorso, dal punto di vista spaziale, socio-spaziale, questa è un'altra cosa assolutamente di primaria importanza e questo rispetto al 2005, credo che si possa, se non vorrei spararla lì e dire gilégionizzazione delle banlieue, come si diceva, gilégionizzazione della greve, ma alcuni della greve, cioè dello sciopero, gilégionizzazione sarebbe l'influenza dei gilégion sulle altre pratiche di lotta. Non voglio esagerare, sono consapevole del fatto che non bisogna assolutamente spararla grossa, vorrei solo però mettere in luce alcuni aspetti che sono importanti, che sono stati messi in luce, sono stati evidenziati da un'inchiesta che ha pubblicato il quotidiano Le Monde qualche giorno fa. Nelle prime righe si mostra che queste rivolte, traduco mentre leggo, hanno espresso una nuova geografia, di cui queste sono le dichiarazioni del ministro Christophe Beschu, ministro della cohesion territoriale, che già in sé sembra una sorta di scherzo, una geografia nouvelle dont una palabitude. E poi sono stati recensiti 553 comuni che sono stati toccati in otto giorni di rivolte sul territorio francese, di cui 170 non avevano dei quartieri definiti come politiques de la ville, che sono le politiques speciali pensate per i territori considerati come popolari, prioritari o sensibili. Perché nella geografia politica francese ci sono questi, i quartieri popolari vengono difenditi come territori prioritario o sensibili dal punto di vista delle politiche sociali e barra sicuritarie. E in più la cosa che viene sottolineata è che la prima volta sono stati toccati anche i centri delle città, per esempio qui a Parigi, una cosa che mi sembra abbastanza evidente nella spontaneità delle convocazioni che avvenivano soprattutto su Snapchat e su dei reso che non sono neanche quelli dei gauchistes, dei militanti di sinistra. C'è stata anche una difficoltà da questo punto di vista perché erano anche dei canali assolutamente differenti quelli in cui avvenivano le convocazioni però, la cosa che per esempio a Parigi mi ha molto colpito, oltre che sono stati investiti anche dei quartieri del quadrante nord, per esempio il Champs-Élysées, cioè il terzo giorno è stata lanciata una convocazione di Champs-Élysées che era, come sapete, ne avevamo discusso e voi poi siete venuti qui più volte, è il luogo simbolico dei gilets giorni. Quindi questo non voglio dire che la cosa è pienamente realizzata perché invece penso che la problematicità di come pensare la convergenza, anche a partire da quest'ultimo dato, sia forse l'aspetto più importante. Dico però che il lavoro che è stato fatto, Francesco diceva da un lato i tifosi, effettivamente anche dal punto di vista della tifoseria si tende a isolare l'evento, ma soprattutto il lavoro che è stato fatto dall'industria della comunicazione era quello di dire ci sono stati i movimenti sociali e adesso ci sono gli emeut, cioè solo durante i primi atti dei gilets john si era parlato di emeut e non invece, che ne so, di rivolta, insurrezione, quelle che sono delle categorie che utilizziamo forse perché hanno una qualificazione politica più marcata. Però il tentativo era quello di dire che questa cosa è separata in termini di separatismo etnico, religioso, geografico dal resto della popolazione francese e anche dalle lotte. Invece il compito che le lotte hanno è quello precisamente di inscrivere questa rivolta all'interno delle rivendicazioni, dei punti programmatici, delle pratiche, della spazialità, dei desideri, degli affetti che caratterizzano quella che Balibar definisce come una insurrezione democratica nella quale diverse lotte, diversi movimenti assumono una tendenza insurrezionale e insorgente. Poi chiaramente, proprio per concludere, nel caso dell'analisi di Balibar c'era questo tentativo di mettere insieme l'aspetto della lotta di classe e quello della tendenza a un'insurrezione democratica. Lui diceva che la lotta di classe si definisce in particolare per una lotta sui livelli di appropriazione e di distribuzione della ricchezza, laddove nel momento in cui questa lotta prende il carattere di un'insurrezione democratica dovrebbe provare a svilupparsi su due livelli. Il primo livello era quello appunto, e già allora il dibattito era questo, di provare a inserire in costituzione degli elementi di controllo e di limitazione del potere della violenza poliziesca e dall'altro l'elemento dell'apertura da un lato alle questioni ecologiche e dall'altro alle questioni che rilevano del rapporto tra poteri e contropoteri. Lui immagina un meccanismo espansivo nei quali i contropoteri eccedono il livello dei poteri e aprono quindi a una dinamica espansiva. Il problema che abbiamo oggi è che, come dimostrano anche gli ultimi eventi, queste istituzioni sono bloccate. Sono bloccate, rispondono in maniera… Matti Rigust per esempio ricostriuisce la genealogia della polizia dicendo che si è sperimentata nella guerra ad Algeria, nella lotta coloniale ed è un elemento che esprime una tendenza controinsurrezionale della forma stato. E quindi diciamo che questo aspetto va tenuto assolutamente presente perché attorno al dibattito anche sulla violenza potrebbero esserci degli elementi di ricerca di un comune delle lotte per pensare alla prospettiva.